Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con MSM Tigre MSM Tiger 122 MSM Kelly Che sono due compagnie di classe scarse Molto scarse E oggi siamo qui Ho portato... prega E oggi siamo qui perchè è uscita il nuovo Brawler Rose che MSM Tiger Tiger Che non sa scrivere L'ha scioppata L'hai scioppata vero? L'ha scioppata Bene me la metto io perchè raga Oggi insieme a voi nel negozio Costa solo 19 gemme Fatemi sapere se la sciopperete qua sotto nei commenti E la andrò a scioppare Adesso per queste 35 gemme 3, 2, 1 E abbiamo scioppato Rosa ragazzi Eccola qua Rosa Brawler raro 4 su 4 Questa esperta di botanica E cazzotti ha il pollice verde E fa occhi neri a chiunque E con la super si protegge dai danni Va bene Va bene allora Andremo a provare Prendiamo Rosa Ok raga Me la metto io Allora Non lo so Voglio vedere la mappa Con più Allora Facciamo una Facciamo una raffaggenda Ok raga Mettete pronto E io ho messo pronto Giù Ma chi sono te Io pure ho fatto Oh raga Ma vi siete iscritti voi due al mio canale No Quale Come quale Secondo te io da dove sto registrando Eh no Eh vabbè Poi mandami su whatsapp Sì 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 Raga Se è vero sta cosa Forse abbiamo uno dei più forti youtuber No non è vero Vada Raga C'è gente C'è altra gente con rosa E non mi piace Che infarto Che infarto Vieni dietro Lucrezia Non fare C'è 17 di vita E non fare Ecco appunto Meno io Raga rosa è devastante Raga rosa è devastante Io me la devo Cioè ho fatto bene Ciò parlo Non me ne pento sinceramente Odio odio sta torretta per ora Ecco appunto Raga riuscite a buttare fuori quella torretta Quale? La torretta C'è una torretta No io non la vedo Sta qua Io sono tornata all'inizio Le mie amiche sono orbe Sei esplosa Che bello Ho visto Giulia esplodermi in faccia Che felicità Ah raga A proposito Visto che nessuna delle due ha un canale youtube Ma una ha un canale tiktok Seguitela su tiktok Lei di tiktok Vero ti chiami? Sì Eh Dillo te che io non lo so Ragazzi Io lo perdendo Smettila di parlare Ma io devo parlare È il mio video Devo parlare Sì ma vuoi perdere? Vabbè tanto io perdo meno zero trofei Se te quella che li perde Raga ho scoperto che rosa fa schifo Cioè è fortissima Solo che io non la so usare Si è appena ucciso uno E l'abbiamo perso No è bellissimo quando rosa cade per terra No No raga vale tutto Allora dobbiamo fare un amichevole Sì Il karma Il karma della cassa Il karma della cassa Allora vi invito io State tranquille Vi invito io Facciamo Ok una cosa Io quale No niente No niente niente Vi invito io Ho capito Uscite Dovete uscire dalla squadra Tutte e due Uscite Ecco Fatto Fatto Uscite Vi invito io Allora Stiamo tutti contro tutti Ok Giulia va già con l'Alzheimer Dai Ti prego Dai fammi solo provare rosa Dai vi ho messo una mappa aperta Mettete pronto Nonne Scegli 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 un personaggio E non dire nonne Due anni dopo Ok Allora Io direi di andare subito Ad uccidere Giulia Grazie Prego Ho sbagliato Si dice prega Allora rosa Fa un po' schifo Cioè Eh Le casse che a livello 1 Se le fa con tre porte Mi piace tanto Va bene Che è lenta Se moriva Giulia Quanto godevo Raga Io sto già iniziando Ad uccidere gente Se leggete sopra Evviva Siete morte Ciao No fermi Non uscite Non uscite Osservateli Osservatemi Io non vedo chi sei Quindi Eh ma sta Non sei uscita Dalla partita Vero Io non ti trovo Eh infatti Non uscite Dalla partita Raga Ti ho visto Chi state Chi state osservando Io ti sto vedendo Ok brava No ho usato Ho vinto Ho vinto Hai vinto Dai Rigiochiamo Sì Adesso No per sbaglio Adesso giochiamo Insieme Facciamo Voi due Contro di me No Voi due Contro di me Dai Dai uscite Dalla squadra Non è Voi due Insieme Voi due State insieme Te e Lucrezia State contro di me Esatto Così siete più avvantaggiate Ok Però dovete uscire Dalla squadra Raga Io sono uscita Non siete uscita Non dovete stare Nella stessa squadra Dovete uscire Ognuno nel suo gruppo E poi vi invito io Capito Brava 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 State insieme Decidetevi Il brawler Fatto Brava Ma non si voleva Tanto Mettiti Sei pronto C'è un tasto Grosso Quanto un telefono Siete mongoloni No ma sei pronto Io sono pronto Da più di due anni Sì vabbè Ciao Giulio Ma io sono pronto Mi dice che tu non sei pronto Sì tu sei pronto A tavola Ma A me dice che non sono pronta Infatti non sei pronta Sì che sono pronta No Ah giusto Oddio Ho fatto Ho fatto Ho fatto No veramente Ci abbiamo messo tutto il video Non fare lo spiritoso Sono già morta io Lo so Ci ho ucciso io Grazie Abbiamo segnato Vado a segnare Vinto Allora cambiamo modalità Allora Vi va di giocare alla cieca Allora sta bene Ok Allora si gioca alla cieca Fermi che metto la mappa Penso sia questa Un attimo Io faccio Eh no Raga sto cambiando mappa Un attimo Noi L'avevo visto da grax Sta la mappa Non so qual è Ehm Ma poi mi mandi come ti chiami su Sì 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 Raga facciamo l'ultima E poi Per non annoiarvi Eccola fatto E prateria dei serpenti Mettete pronto Si gioca alla cieca Eh raga Si gioca alla cieca Chi io Lucri No è il mio fratello Veniamo Lucrezia Facciamo la discriminazione Sto discriminando Lucrezia Io mi sono nascosta Non mi soverete mai Giochiamo a nascondino Dai Mi conta Oh regà È un'idea Per un prossimo video Nascondino Ciao Ciao E mi avete ucciso però Sono stato io Ciao Lucrezia mi ha ucciso E vai Dai Ciao Dynamike Ciao Giù No ti prego Ti odio Grazie Dai io devo andare Ciao Eh finiamo sto video Ciao Eh finiamo sto video Lu Eh si vabbè Eh no devo andare Ciao Ok ciao E rimaniamo io e te Lucri Oh Lucre mi hai sentito Lucrezia Mi hai sentito Ci stiamo menando a superi e te Ma che stai vincendo No 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 State vincendo No No stiamo vincendo Noi Vi ho vinto Vai dai facciamo delle duo Ok Lucri Giochiamo a palla avvelenata Vieni Mi so che Si esce Ti invito io Esci Sono uscita Eh raga il video di oggi si conclude qui Iscrivetevi Mettete un pollicione che non mi dispiace mai Iscrivetevi Premendo il tasto Iscrivetevi qua sotto Attivate la campanella per non farvi nessun mio fantastico video E da Frazzerote E MSM Tigre Ciao Ciao